Ciao a tutti, io sono Sofia e io sono Christian e noi siamo Berge perché ci piace la birra e amiamo la montagna. Oggi ci troviamo di nuovo sul Nofer e abbiamo appena fatto la via Dirty Flirty, una via sul Porfido attorno a Bolzano perfetta per un appuntamento sulla roccia. Abbiamo preso il bus per andare verso l'ospedale che da lì poi scenderemo e andremo all'avvicinamento. Allora lì ci sono i bar con le persone che già fanno aperitivo e noi no, noi invece ce ne andiamo a far bagnare le birrette al Nofer, facendo un po' di tiri con questo tempo meraviglioso. Si scende dall'autobus alla Cantina di Bolzano e si prende per questa strada. questo cartello si prende il sentiero 11B e si prosegue per i vigneti per il Nofer e per la paretona quassù. Questo cartello potrebbe attentarvi di proseguire dritti perché c'è scritto Nofer 11B, ma per le vie bisogna proseguire per la strada. La prima via che si incontra, seguendo questa strada, è la Vister Garden e questo primo tiro si può tranquillamente collegare alla via Dirty Flirty, che è quella che noi faremo oggi. Per le partenze ufficiali delle vie, basta proseguire per questa strada e si arriva all'umino di pietra che si vedeva nell'altro video che vi lasciamo qua. Allora, partner check. Ok, perfetto. Tu mi hai? Si. Devo mettermi le scarpe però, come la mettiamo? Ti eri dimenticato? Si. Volevi andare scalzo? Si. Come Alain Robert. Esattamente come Alain Robert. Allora, a dopo. A dopo. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Mi piace molto! Sono in sosta! Ciao! Ciao! Collegamento fra Wintergarten e Dirty Flirty. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info In questo corso gratuito è la nostra scatola... ...non troisième. Cosa faccio Revale? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info ...le farlo di offro da acquistino Stossa, devo costruirla. Ciao, ciao! Ok, perfetto, a dopo. Ciao! Grazie a tutti. 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 Ciao tesoro! Ciao! Com'è? Bene, dai. Tutto a posto? Eccola, pronta per il prossimo tiro? Su di qua? Perfetto! Spitta? Sì, vabbè, non è che mi dispiaccia eh? No, va bene dai, ci sta no? Madonna! Sì, è bello, è bello, è bello, è bello. Sì, è bello, è bello, è bello, è bello. Sì, è bello. Sì, è bello. Sì. Sì. Sì, è bello. 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 Grazie a tutti. Sono in sosta, sono in sosta. Eccola. Eccoci. Ciao. 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 Ok Ciao 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 Ok, ok, pitch six, start. Ok, mi falti il sedere? Sì. Ok. Ah sì sì, qua ci sono tutti questi buchi. Secondo me è il tiro più bello di tutta la via, questo. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Ok, sono in sosta, sono in sosta. Io di solito qua faccio il giro dall'altra parte. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Sosta. Ciao. 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 Ciao.